San Pio X, vengono segnalati al 113 tre personaggi intenti a rovistare nei containers utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti della ricicleria. All'arrivo delle volanti tre uomini cercano di allontanarsi a bordo di un furgone ma vengono prontamente bloccati dai poliziotti che li identificano e controllano all'interno del furgone accertando la presenza di diversi computer, molti dei quali rotti, cavi elettrici, vari, parti di vari utensili, materiale in rame e telefoni cellulari dismessi. I tre che vivono a Vicenza in precedenza si sarebbero introdotti all'interno della ricicleria per portare via il materiale, per questo sono stati denunciati per furto. Il materiale è stato di nuovo riportato in ricicleria per le operazioni di smaltimento previste dalla legge.